Americo di Benedetto, arrivato secondo la recente competizione elettorale delle amministrative, superando Stefania Pezzopane con il passo possibile, si rimette dal Consiglio Comunale e fa un passo di lato quindi, rendendo possibile il rientro di Elia Serpetti e si scusi il gioco di parole che sarà di nuovo capogruppo. Ci sarà un unico gruppo sotto il nome del passo possibile che ingloberà anche la lista d'Aquila e frazioni con Enrico Verini di Azione PiEuropa che sarà da solo il capogruppo ma comunque federato. Americo di Benedetto, già consigliare regionale, coordinerà a livello politico il movimento facendo un filtro tra regione, comune e cittadini. Nessuna risposta al caos di questi giorni nel PD e alle tante cose dette parlano i voti, ha risposto presentato un'analisi condotta da Riccardo Perzio. Del grande consenso per Di Benedetto in città lo dimostra pure la grande partecipazione dei cittadini alla conferenza stampa. La nostra, hanno detto i presenti, sarà un'opposizione attenta alle esigenze della città, rigida su piccoli e grandi temi. Il passo possibile ha invitato i giovani ad avvicinarsi a loro. Di Benedetto ha spiegato che loro saranno aperti alla discussione con tutti, ovviamente anche con l'altra opposizione, riferendosi al PD sollecitato dai cronisti. Sì, è originale questa affermazione, mi piace, un passo di lato per ripartire uniti, che in realtà è il senso della nostra campagna elettorale. Faremo un unico gruppo in Consiglio Comunale, rientrerà il Rio Selpetti che sarà il nostro capogruppo senza soluzione di continuità, apriremo una parte importante che è l'Aquila Ovest a livello di frazioni, continueremo il nostro impegno in città e sul territorio, abbiamo dato dimostrazione di grande sentimento di condivisione, perché non abbiamo lucrato la possibilità di fare il capogruppo di una lista per stare in tutte le commissioni, ma noi abbiamo un progetto politico ambizioso e ben definito. Io avrò un ruolo per l'appunto politico di coordinamento dell'opposizione di collante fra la città e il Consiglio Comunale, starò in Consiglio regionale, sono orgoglioso del risultato che la città mi ha tributato, ma anche responsabile perché per le future competizioni politiche e regionali l'Aquila attraverso noi dovrà parlare e lo dovrà fare nella maniera più adeguata possibile, in maniera forte, determinata e quello che in qualche modo è giusto che la città capoluogo di regione abbia come elemento decisivo e di proposta. Grazie a tutti.